vediamo una sequenza della cometa che sta qui che tramonta un po più velocizzata si vede molto bene la testa e si riesce a percepire anche la cola questo è esattamente come apparevo poi le foto professionali sono sono di queste foto una sopra l'altra prese a distanza piuttosto ridotta permettono di vedere i dettagli della comula però quello è quello che si percebeva al binocolo oggi 12 ottobre alle 18 e 19 e 25 grazie per l'attenzione cometa 2023 a 3 montagna di tuorco non mi ci vediamo grazie 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 grazie